Questa mozione parla di una situazione che ormai perdura da tantissimo tempo, una situazione in cui abbiamo dibattuto quasi due anni durante la riforma sanitaria, cercando di ragionare anche sulle possibili soluzioni. Parto a fare una considerazione che oggi è la giornata dedicata agli atti di sindacato ispettivo e indicazioni che dà il Consiglio alla Giunta e noi abbiamo come al solito 3 o 4 o 5, quando ci va bene, membri di Giunta che io voglio ringraziare i presenti su 18 che sono e questo è il rispetto che ha la Giunta nei confronti del Consiglio. Stiamo dibattendo in un tema come quello dei premi ai direttori generali che dopo 25 anni di governo di centrodestra in questa regione ci si è accorti che vengono praticamente regalati parole del collega Romeo e legati anche ai veri risultati e legati anche al risultato vero che è quello delle liste d'attesa che è il tema centrale, mi anticipava prima anche il Consigliere Decorato, è il tema centrale delle problematiche che vivono gli utenti con il nostro sistema sanitario. L'unica cosa che ha sostanzialmente a dire la Giunta è sono d'accordo ma trasformatelo in invita. Questa è la risposta della Giunta, è un problema sollevato dal capogruppo del partito del Presidente Maroni e di un partito di maggioranza su un problema che è davvero centrale. Abbiamo discusso in sede di riforma sanitaria, abbiamo inserito tra i criteri per dare i premi ai dirigenti anche le liste d'attesa, quindi c'è già una legge, non c'è bisogno di una mozione, di un atto di sindacato. Basterebbe fare una semplice delibera, se la Giunta non lo fa è perché non c'è una volontà politica, se la Giunta continua a dare premi a pioggia come se non ci fossero domani è perché c'è una chiara volontà e una chiara responsabilità politica. Quindi se questo sistema non funziona, nonostante 2 miliardi spesi in sistemi informatici, nonostante una marea di soldi spesi per centri unici di prenotazione che non vengono supportati e non vengono sponsorizzati nella giusta maniera, per sistemi informatici che non parlano tra di loro all'interno di un unico sistema sanitario regionale è una chiara ed evidente responsabilità politica. Se le cose si vogliono far funzionare come funzionano in altri ambiti si possono far funzionare, non può essere nel 2016 un problema di mancanza di comunicazione tra i sistemi informatici di alcuni diversi ospedali che non permette di avere una panoramica delle agende e delle prenotazioni, non esiste nel 2016 che non si metta un criterio di punizione di chi fa 3 o 4 prenotazioni in contemporanea e poi non si presenta allungando le liste d'attesa. Non è possibile nel 2016 che ci sono medici in intramenia e lo sanno tutti e dal segreto di Pulcinella che ti dicono liste d'attesa lunghissime ma se vieni in studio lo facciamo oggi pomeriggio in modo privato ed è un conflitto di interessi che non è mai stato sanato, era stata pensata all'intramenia per facilitare, per ridurre addirittura liste d'attesa e invece vengono spesso gonfiate ad arte per poi far guadagnare nella parte privatistica di alcune persone che poco oneste si sono dimostrate negli anni quindi alcune soluzioni ci sono a queste problematiche. C'è bisogno di una chiara volontà politica dell'assessore alla sanità, il terzo in questa legislatura c'è stata una chiara indicazione all'interno di una legge e non all'interno di un atto di sindacato politico del Consiglio non è mai stata applicata. Il Movimento 5 Stelle è d'accordo nel merito, possiamo inserire tutto quello che vogliamo ma io personalmente mi rifiuto di votare a favore di una mozione spot che serve per ancora una volta riempiamo la pagina giornale, il Consiglio si occupa del problema delle liste d'attesa quando abbiamo iniziato la legislatura nel 2013 con questo tema, abbiamo fatto una riforma sanitaria con questo tema ma dopo 4 anni quasi siamo ancora a parlare di questo. Quindi o si fa una delibera e si dimostra che si vogliono cambiare le cose oppure è chiara che la responsabilità di questa giunta è di mantenere le cose come sono di continuare a regalare stipendi a pioggia e molto elevati a qualche amico o a qualche dirigente in quota come si è dimostrato anche dalle pagine dei giornali in quota a quello o quell'altro partito o a quello o quell'altro consigliere e vuol dire che a questa giunta va bene così, non interessa dei problemi dei lombardi, non si occupa dei problemi dei lombardi, anzi andando avanti con questo metodo continua a crearne e continua a smantellare un sistema sanitario che funzionava grazie alla professionalità dei nostri lavoratori all'interno del sistema e che però purtroppo perché la politica ci mette gli occhi le mani e delle volte cerca anche, ha dimostrato questo anche i recenti arresti, cerca di entrare anche in altri interessi, sta smantellando a favore e del privato e disinteressandosi completamente del sistema sanitario pubblico. Quindi chiedo la votazione per appello nominale a nome del sottoscritto del consigliere Buffagni, Fiasconaro, Corbetta e Carcano e annuncio il nostro voto di astensione.